Windows 11 ISO, scaricare e installare l'aggiornamento 22H2O 2022 Update. Windows 11 22H2O 2022 Update è pronto. Come avviarne il download e aggiornare il sistema operativo al più recente feature update, ora disponibile per tutti. A distanza di un anno esatto dalla pubblicazione della versione finale di Windows 11 avvenuta il 5 ottobre 2021, il 20 settembre 2022. Microsoft ha rilasciato il primo aggiornamento delle funzionalità o feature update per il sistema operativo. Si chiama Windows 11 22H2 o più semplicemente Windows 11 2022 Update, perché questo nome? Perché Microsoft ha deciso di rilasciare un solo aggiornamento delle funzionalità al anno per introdurre nuove feature, d'ora in avanti, al massimo ogni tre mesi con pacchetti che sono stati battezzati Moments. Non è dato sapere se con il rilascio degli aggiornamenti Moments 1 e Moments 2 Microsoft distribuirà un ulteriore feature update nel 2023. Come scaricare Windows 11 ISO aggiornata alla versione 22H2? Abbiamo già avuto modo di presentare le novità di Windows 11 22H2, pacchetto che dal 20 settembre 2022 è disponibile per il download per tutti. In un altro articolo abbiamo visto anche come verificare se il PC è compatibile con Windows 11 22H2. L'immagine ISO di Windows 11 permette di creare un supporto avviabile, ad esempio una chiavetta USB, per installare Windows 11 e reinstallare Windows 11 da zero o con in-place upgrade, senza provocare la perdita di alcuna applicazione net, tanto meno, dei file personali del utente, installare Windows 11 in una macchina virtuale Hyper-V, VirtualBox, VMware, montare il supporto di installazione in Windows 11 o nelle precedenti versioni del sistema operativo per verificarne e modificarne. La struttura con gli appositi tool, come spiegato in altri articoli per scaricare Windows 11 ISO basta portarsi nella pagina download di Windows 11 sul sito ufficiale Microsoft, scorrere la pagina fino al paragrafo download dell'immagine del disco, ISO, di Windows 11, selezionare Windows 11, Multi Edition ISO, quindi cliccare su Scarica. Dopo aver scelto l'italiano come lingua del prodotto, cliccando sul pulsante 64-bit download si ottiene il link diretto per effettuare il download di Windows 11 22H2. Windows 11 22H2 con il Media Creation Tool, sempre dalla pagina vista in precedenza, portandosi in corrispondenza di creazione di supporti di installazione di Windows 11 quindi, Cliccando su Scarica ora, viene scaricato un file dal nome Media Creation Tool U11. Exe. Diversamente da quanto accadeva in passato con Windows 10, il Media Creation Tool per Windows 11 non permette di aggiornare direttamente il sistema operativo, sia ISO Windows 10 U11, applicando in questo caso il feature update 22H2. Il Media Creation Tool di Windows 11, invece, consente esclusivamente di creare un supporto di avvio con i file per l'installazione. Del sistema operativo e di scaricare il file ISO. Dopo aver avviato il Media Creation Tool e accettato le condizioni di licenza d'uso, si può cliccare semplicemente su Avanti alla comparsa della finestra in figura. La schermata successiva consente di scegliere se creare un'unità USB o generare il file ISO per installare Windows 11. Installare Windows 11 22H2. Aggiornamento a Windows 11 con Windows Update. L'aggiornamento a Windows 11 22H2 può avvenire tramite Windows Update. La schermata principale informerà via via gli utenti circa la possibilità di scaricare e applicare il feature update. La distribuzione di Windows 11 22H2 avverrà a più riprese nel corso delle prossime settimane e dei prossimi mesi. Tutti gli utenti non saranno subito informati sulla disponibilità del nuovo aggiornamento. In un altro articolo abbiamo visto cosa significa aggiornare Windows 11 e quali sono le principali differenze tra i pacchetti che Microsoft periodicamente rilascia. Aggiornare subito a Windows 11 22H2 con l'assistente per l'installazione per aggiornare subito a Windows 11 22H2 e comunque all'ultima. Versione del sistema operativo si può scaricare ed eseguire l'assistente aggiornamento di Windows 11 cliccando su Scarica ora in Corrispondenza di assistente per l'installazione di Windows 11 Nel caso in cui la versione di Windows 11 installata sul sistema in uso fosse quella più aggiornata, assistente per l'installazione di Windows 11 mostra il messaggio in questo dispositivo è già in esecuzione l'ultima versione di Windows 11. Usare il file ISO o la chiavetta USB con Windows 11 22H2 per aggiornare il sistema Windows 10 e Windows 11 permettono di montare i file ISO con un semplice doppio clic, esattamente come avveniva in Windows 7 e 8. Per aggiornare la macchina a Windows 11 22H2 si può scaricare il file ISO dell'ultima versione del sistema operativo quindi montarlo e infine cliccare due volte sul file Setup.exe per poi seguire la procedura guidata. L'installazione permette di effettuare un'installazione da zero oppure avviare un in-place upgrade così da non perdere impostazioni, programmi e file personali. Allo stesso modo si può usare la chiavetta USB creata con il Media Creation Tool cliccando due volte sul file Setup.exe al suo interno, il risultato sarà identico. Trattandosi di un dispositivo avviabile sarà possibile utilizzarlo, ad esempio, per avviare l'installazione di Windows 11 al boot e caricare da zero il sistema operativo cancellando quanto presente sull'unità di memorizzazione. Anche in questo caso è possibile eseguire però anche un'installazione pulita di Windows senza però cancellare definitivamente i file. Relativi alla precedente installazione, che saranno temporaneamente salvati nella cartella Windows Hold. La procedura, che consiste nella scelta di dell'installazione personalizzata, è la stessa che avevamo visto nel caso di Windows 10 e che abbiamo illustrato nell'articolo citato. Scaricare la ISO di Windows 11 22 H2 con Rufus La nota utilità gratuita Rufus permette di scaricare le varie versioni di Windows con la possibilità di scegliere il feature update di proprio interesse. Rufus crea supporti avviabili di Windows e integra diversi trucchi per rimuovere automaticamente, per esempio, i requisiti per l'installazione di Windows 11, eseguire un'installazione non presidiata, creare un account utente locale durante l'installazione del sistema operativo, disattivare le domande, fase o ove, presentate al termine della procedura di installazione di Windows 11 e altro ancora. Rufus permette non soltanto di scaricare il file ISO di Windows 11 ma aiuta a configurare un supporto avviabile con l'immagine del sistema operativo scaricata con il Media Creation Tool o direttamente dalla pagina di download del sito Microsoft.